Buonasera, buonasera, benvenuti, ciao Paola. Ben trovati, ben trovati. Allora, anche questa volta una puntata ricca, ricca, intensa, con tanta moda, tanta musica e anche tanto divertimento e buon umore. Grazie, grazie. E poi, tra l'altro, sono i genitori dei ragazzi, giusto Paola? Quello in studio, ma salutiamo anche quello a casa che ci segue. Allora, si canta Alleluia con Angelica Montanaro. Alleluia. Volevo la mina al cuore che si strazza il mondo intorno a me, rugine di vento, prigioniero dentro la mia mente. Ma il tempo passa in fretta e tutto se ne va, peda degli eventi e delle caratteristiche. Bene, dopo questa brevissima pausa pubblicitaria, riprendiamo con la musica. Manuel. Visto come un altro che ha perso il volo e sta spettando ancora senza te. Visto come un altro che ha perso il volo e sta spettando ancora senza te. Io vedo un canto vola via quando viene dicembre. E' più urgente, molto più urgente. Quando ora sentiamo dire che non ci rimane che altro tempo, sappiamo che non bastiamo a noi stessi. Affrettiamoci ad amare. Noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi perché è il tramonto della vita. Davvero somiglia più ad un conflitto, il cuore spesso preso da un dito che tu mi hai puntato al petto. Se gli occhi non riescono a raccontarti ciò, è tu. A mano a mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso. Sì, quest'attitudine ti rende meno fragile ma poco credibile. Mi hai detto ti amo, non mi ricordo. Cercavo amore ma alla fine mi ero e l'ulta potente. Cercavo amore ma alla fine ho avuto tutto stranet. Cercavo amore ma alla fine mi ero e l'ulta potente. Grazie. Grazie.